Arriva il gelo in Puglia con la neve che fiocca anche in provincia di Taranto e Brindisi, mentre forti raffiche di vento fino a 70 km orari stanno imperversando sui campi, con la discesa della colonina di mercurio che rischia peraltro di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti. L'allarme è lanciato da Coldiretti Puglia. Purtroppo il caldo nome della regione dei mesi scorsi ha favorito il risveglio anticipato delle varietà più precoci, ha ricordato l'associazione di categoria di mimose, pesche, ciliegie, albicocche, agrumi e mandorle, dopo un mese di dicembre, che aveva fatto segnare una temperatura superiore di 2,65 gradi rispetto alla media storica. Ora l'arrivo del gelo colpisce le coltivazioni invernali in campo, come cavoli, verze, cicori e broccoli, che reggono anche temperature di qualche grado sotto lo zero, ma se la colonina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe, si verificano danni. A preoccupare è continuato ancora la Coldiretti e anche il balzo dei costi per il riscaldamento delle serre, per la coltivazione di ortaggi e fiori che risente dell'impennata della bolletta. Con 112 eventi estremi in dieci anni, ha poi concluso l'associazione pugliese, la Puglia si posiziona al quarto posto della classifica delle regioni italiane maggiormente colpite dagli effetti violenti dei cambiamenti climatici, con danni stimati pari ad oltre 3 miliardi di euro sul settore agricolo.